Firmato un accordo tra Banca del Valdarno e a sede di San Giovannese affinché i tesserati, ma anche tutte le famiglie del settore giovanile del Marzocco, possano ottenere prodotti e servizi agevolati sotto il profilo economico nell'istituto di credito. È di fatto un forte avvicinamento tra le realtà, comprendendo anche un premio al merito sportivo, non sotto il profilo tecnico, ma per il fair play, proprio per i più giovani ogni anno. Questa convenzione la banca dà la disponibilità ad offrire i propri servizi bancari e i propri prodotti, parliamo di conti correnti dedicati, parliamo di finanziamenti, a favore di tutti gli associati, di tutti gli iscritti e delle famiglie, soprattutto, che fanno riferimento con i propri figli al settore di AC San Giovannese. C'è un aspetto anche particolare, abbiamo inserito in accordo con la dirigenza di San Giovannese ed è simbolicamente significativo quello di prevedere anche un merito al premio sportivo. Sarà un riconoscimento che alla fine della stagione verrà assegnato a tre ragazzi che si sono particolarmente distinti, però non per meriti sportivi in senso stretto, quindi il più bravo, i più bravi, ma quelli si saranno distinti, per esempio, per il fair play. Diventa una sorta di prototipo. Continuiamo con una sponsorizzazione della società storica che lavora molto nel campo a livello sportivo agonistico e nel campo della professione dilettantistica, ma soprattutto nell'ambito della formazione di tante giovani generazioni. Ci si crede per questo, a questa iniziativa, specialmente con i format che abbiamo pensato, per quanto riguarda sia la sponsorizzazione, sia anche i premi che vengono dati per il fair play, sia per quanto riguarda la correttezza. Un ambito questo, quindi, che passa dal sociale allo sportivo, creando anche sinergia tra le due realtà economiche. Si sta parlando di educazione, di sportiva, non calcio, perché al di là del fattore di sostenere la prima squadra come cittadino e come appassionato, obiettivamente si sta anche parlando del settore giovanile. E per noi il settore giovanile vuol dire una crescita, che non è solo una crescita di carattere sportivo, ma anche una crescita di educazione agonistica, formativa. Oltre al prodotto intrinseco, quello che mi piace riaffermare è che finalmente la San Giovannese ricomincia a avere quei giusti rapporti che è necessario avere con il tessuto economico e sociale della città. Fino a poco tempo fa c'era una frazione fra queste due entità che forse non portava bene a nessuno. Quindi nell'ambito di questa ristrutturazione che stiamo facendo, sia dal punto di vista economico della San Giovannese e dell'organizzazione della società, ma anche nei rapporti verso l'esterno, è un passo veramente importante.